A proposito di fondazione, è arrivata la prima biblioteca online dell'Alto Aldige. Si tratta di Biblio24 con più di 7000 supporti. Vediamo. È sufficiente effettuare un semplice login per prendere in prestito e scaricare in maniera immediata, 24 ore su 24, comodamente e gratuitamente da casa, media digitali come audiolibri, e-book, e-paper e video. Si tratta di Biblio24 che costituisce una novità assoluta a livello provinciale, poiché si tratta della prima biblioteca digitale e audioteca sul territorio altoatesino, a disposizione degli utenti. Istituita congiuntamente dalla biblioteca provinciale e dalla fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Biblio24 è costituita da un patrimonio di svariati supporti elettronici, che possono essere presi in prestito gratuitamente, 24 ore al giorno, online, e mediante un semplice download sul proprio computer. La fondazione è sempre orgogliosa quando viene coinvolta in progetti interessanti, prospettici, questa è un'idea nuova, si parla tanto di innovazione, quindi pensiamo assieme a Tesman e all'amministrazione provinciale di un attimino anticipare i tempi e mettere a disposizione la società un progetto molto interessante, 24 ore su 24 ore possibilità di lettura, di formazione, di ricerca, penso ancora una volta un segnale nella direzione giusta. Nella sua raccolta multimediale include già un patrimonio di circa 7000 supporti elettronici, oltre a numerosi audiolibri ed e-book di grande attualità, sia nell'ambito della narrativa che saggistica. È aperto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, proprio diciamo sempre, e ci basta una connessione internet per mettersi in contatto con il nuovo portale e di prendere i media che ci sono dentro. Per effettuare la ricerca del materiale si può accedere direttamente dal sito www.biblio24.it